Ciao, sono Matteo, detto Chain, e questo è un tutorial su come cucinare i sugnolotti. Allora, prendete un piattino, perché avete sicuramente una fame chimica, prendete poi delle sottilette, delle comuni sottilette al formaggio, ne prendete un paio, insomma, a seconda anche di quante persone siete e quante volete preparare. Allora, una volta che voi avete preparato le vostre sottilette, le stendete così sul piatto, un po' alla cazzo di cane, diciamo. No? Vedete? E prendete delle salse, tipo in questo caso io userò questa salsa al curry. No? Non c'ho il ketchup, ma ho questa simpatica salsa al pomodoro. E una volta che avete farcito i vostri sugnolotti, li arrotolate. Vendete. Fate un involtino di merda. E voilà, sugnolotti, cotti e mangiati.